Eccoci, siamo qua, sta l'LP, creazione di legno Stiamo camperizzando la macchina, stiamo iniziando Ovviamente Medica Ecco, sempre qua, da MP, abbiamo già fatto la base, grande Morgan Ora stiamo studiando il cassetto estraibile del nostro fornello, la nostra cucina di sopravvivenza ragazzi Allora, eccoci qua, abbiamo montato il cassetto estraibile per il fornellino Con queste bellissime guille All'estrazione quasi totale, zero flessione Qua andremo a fare ancora una scatola, porta dispensa e cose Un frontalino Siamo a buon punto, che ne dici? Siamo a un ottimo punto Grande Morgan Eccoci qua, che ora stiamo facendo la maniglia che non occupa spazio dell'anta ribalta Spettacolo, questa è la nostra anta Antina, una ribaltina, che ora metteremo due catenelle, che la tiene in piano per appoggiarci la Ceres quando io sto cucinando Molto bene Eccoci qua, secondo giorno di camperizzazione Di camperizzazione Da Morgan, perot, creazione in legno Rivestimento, ecco Esponici, cosa facciamo? Qua, siccome c'entra il fornello, quello lì da campo Certo Noi placchiamo con l'HPL In modo tale che tu possa poi pulirlo comodamente Se ci va l'olio, il sugo Sicuramente Quella bella pastazza, grassa Sicuramente capiterà Quindi necessita di essere lavato Adesso facciamo questa placatura qua Uno, due Devo tagliare quello il fondo E poi Questo qua E piano piano Ce li facciamo Perfetto Perfetto Oggi la giornata è rivestimenti E verniciatura Eccoci qua Praticamente Abbiamo Praticamente Finito Manca più solo Non lo so cosa La catenella Per cosa Ma ragazzi Forno Antina Tac Cioè Bellissimo Bellissimo Questo altro modulo Ha uno scompartimento di qua Uno di là Perfetto Penso che è perfetto Ottimo Un po' mi sono soddisfatto Buono ragazzi Mi sono affidato Come sempre A Morgan Perfetto Di Ostarly Grazie